Per una generazione che si inserisce nella storia del nostro paese, noi sappiamo che da decenni, per esempio, la dedizione al volontariato è attestata attorno al 10% della popolazione. Questo riguarda anche i giovani, anche se tendenzialmente ce ne sono un po' di più. La cosa interessante è rilanciare un pensiero e anche una prospettiva di partecipazione alla costruzione del bene comune. I giovani hanno molto entusiasmo, hanno tante idee innovative, hanno tantissime esperienze molto belle, soprattutto se si formano anche all'estero attraverso i programmi Erasmus. Ma devono poter trovare dei contesti in cui condividere queste idee, discuterle insieme anche tra generazioni e soprattutto devono trovare la possibilità di tradurle in progetti concreti. Ecco, rispetto a questo il tema è il rapporto tra le generazioni. Partecipazione significa anche creare degli spazi che forse oggi tante volte non ci sono. Ecco perché è una sfida che non è semplicemente lanciata ai giovani, ma è una sfida da affrontare insieme. Quindi quella bellezza, anche quella freschezza di idee che sicuramente c'è, e quando la incontriamo capiamo che veramente ha un respiro lungo, che può aiutare a crescere maggiormente, però va incoraggiata anche verso l'impegno nel sociale, nel politico, nelle istituzioni, per mantenere vivo tutto quello che sostiene la nostra architettura civile. Ecco, non si va avanti individualisticamente, questo ormai lo sappiamo, si va avanti comunitariamente. Questa dimensione va coltivata e vanno anche aiutati i giovani a riscoprirle, a riscoprire anche la bellezza.